Musica Strage di Silla di Sassano, confermate in appello la condanna per Gianni Paciello. Sant'Arsenio, convention di fine anno della Banca Montepruno, presentate i risultati dell'anno 2016 e tracciate le linee guida per le sfide future. Teggiano, verso le votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Ieri sera i candidati della lista Miani, ospite dell'Ordine di Sala Consilina. Teggiano, regala Teggiano, il Consorzio Grest, presente il pacco dono per Natale con i prodotti delle aziende tegianesi. Sport, calcio, Valdiano in terra erpina per i tre punti e con una rosa rivoluzionata. Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del Tg di Uno TV. Ieri pomeriggio la Corte d'Appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato a 10 anni e 4 mesi di reclusione Gianni Paciello per la morte dei quattro giovani avvenuta nel settembre del 2014 a Sassano. Vediamo. C'era attesa ieri mattina presso il Tribunale di Potenza dove era in programma il processo di appello a carico di Gianni Paciello, il giovane di Sassano, che alla guida della sua autovettura travolse e uccise quattro ragazzi, Giovanni e Nicola Femminella, Daniele Paciello e Luigi Paciello, quest'ultimo fratello dell'imputato, il 28 settembre del 2014 davanti al bar New Club 2000 a Silla di Sassano. In aula presenti anche i familiari delle vittime che hanno ascoltato la richiesta della Procura di Potenza rappresentata dal procuratore generale Modestino Roca che ha chiesto la conferma della condanna emessa giusto un anno fa dalla Tribunale di Lago Negro in primo grado. Dall'altro lato i legali dell'imputato assente in aula Lavitola e Giuliano che hanno contestato diversi punti. Le telecamere non installate per il calcolo istantaneo della velocità ma per videosorveglianze collaudate dopo l'incidente, le presunte irregolarità durante le analisi fatte presso l'ospedale di Polla, la mancata decelerazione da parte del veicolo guidato dall'imputato che, secondo i legali, potrebbe indurre a pensare che il giovane sia stato colpito da un malore alla guida e da qui la contestazione del reato di omicidio colposo plurimo, queste ed altre contestazioni mosse degli avvocati Lavitola e Giuliano che hanno chiesto al termine del proprio intervento l'assoluzione o in subordine la pena già proposta quando fu richiesto il patteggiamento, ovvero 5 anni e 4 mesi di reclusione a meno un terzo. Nel pomeriggio tuttavia la Corte d'Appello di Potenza per tramite del presidente Pasquale Materi ha pronunciato il suo verdetto. Accolta la richiesta della Procura e conferma della sentenza di primo grado che condanna Gianni Paciello a 10 anni e 4 mesi di reclusione. Si conclude così anche il secondo atto giudiziario del processo per quella che è passata agli onori della cronaca come la strage di Silla. Andiamo avanti e cambiamo decisamente argomento. Questa mattina il Teatro Amabile di Sant'Arsenio ha ospitato la consueta convention di fine anno della Banca Montepruno, nel corso del quale sono stati presentati i risultati, ancora una volta decisamente positivi, dell'anno appena trascorso e tracciato le linee guida per le sfide che attendono l'Istituto di Credito nell'anno 2017, anno che sarà caratterizzato da numerosi cambiamenti come la fusione con la BCC di Fisciano che questa mattina era rappresentata dai vertici dell'Istituto di Credito. Convention di fine anno per i dipendenti della Banca Montepruno che questa mattina si sono ritrovati a Sant'Arsenio presso il Teatro Comunale Amabile per presentare i risultati di questo anno 2016 che sta per concludersi e per tracciare le linee guida per le sfide che le attende l'Istituto di Credito nel prossimo anno. Un 2017 che sarà anno crocevia per la Banca Montepruno come per tutte le BCC con l'entrata in vigore ufficiale dal 1 gennaio 2018 della riforma del Credito Cooperativo. Ed è proprio per fare il punto sulle sfide future, su ciò che è oggi la Banca Montepruno e su cosa sarà il prossimo anno, che è stata incentrata l'attenzione dell'incontro di oggi, moderato e introdotto da Antonio Mastrandrea, responsabile area comunicazione, che ha avuto inizio con i saluti del Presidente Anna Miscia e del Direttore Generale Michele Albanese. Due in particolare le azioni che saranno protagoniste del prossimo anno 2017, la prevista fusione con la BCC di Fisciano, che allargerà notevolmente il bacino di competenza della Banca Montepruno entrando in un territorio completamente nuovo e l'attuazione della riforma del Credito Cooperativo con i numerosi cambiamenti che potrebbero derivarne. Queste le sfide e l'impegno per il prossimo anno che i dipendenti dovranno affrontare e a cui la Banca si è già preparata attraverso una serie di azioni poste in essere in quest'anno appena trascorso, come l'individuazione di tre vice direttori. Cono Federico, vice direttore generale, Elisabetta Giordano, vice direttore area amministrativa e Antonio Pandolfo, vice direttore area mercato. Ed è proprio l'individuazione di queste nuove figure nell'organigramma della Banca Montepruno che potrebbe essere il primo vero cambiamento, come lasciato intendere dal direttore generale albanese. Quest'anno è stato un anno ancora di successo, è stato un anno pieno di grosse soddisfazioni e di risultati. Sicuramente il nostro bilancio economico e sociale è importantissimo, ma quello che ci preme sottolineare e evidenziare ancora una volta è il bilancio sociale che noi approviamo. Un impegno costante negli anni, vedremo oggi proiettare tutte le attività che abbiamo svolto sul territorio, a fuori del territorio, a beneficio del territorio. Questa è una cosa importante, ancora una volta consolidiamo la nostra presenza, ancora una volta ci mettiamo in discussione. Il futuro, come dicevamo, non è semplice, la riforma che ci aspetta non è delle migliori, non è quella che noi auspicavamo. La fusione con Fisciano sicuramente sarà difficile, ma comunque ci darà anche quella grandissima soddisfazione. Bisogna lavorare, bisogna lavorare solo, consci del fatto che il cambiamento, ed è per tutti, un cambiamento che ci deve migliorare, un cambiamento che ci deve far capire che abbiamo davanti a noi una strada difficile, ma che la possiamo percorrere facendo tanti sacrifici. Tutti si saranno accorti che la nostra strategia aziendale sta modificando e sta cambiando. Abbiamo voluto l'inserimento di tre vice direttori, uno più bravo dell'altro, un vice direttore generale capace di poter portare avanti un'azienda. Io farò altro, mi impegnerò soprattutto a stare vicino alla banca, ma a un livello credo e immagino diverso da quello fatto fino ad oggi. La nostra squadra è cresciuta, i ragazzi sono pronti per essere messi sul mercato, sulla piazza. Sono persone speciali, vi assicuro che senza di loro questa banca non sarebbe stata così importante, così grande. Io sono orgoglioso di questi giovani e credo che poi nella vita ognuno di noi deve anche decidere di mettersi da parte quando è necessario. E come abbiamo sentito dalle parole del direttore albanese, potrebbero essere i neo nominati vice direttori a dover accompagnare la banca Montepruno in questa nuova sfida e verso il cambiamento. Una sfida che, come ascolteremo nelle prossime interviste, la banca Montepruno sarà sicuramente in grado di affrontare e superare, cercando di mantenere inalterato il trend positivo che l'ha contraddistinta in questi ultimi anni. Un cambiamento che potrebbe anche non essere così duro da affrontare, soprattutto per i clienti, a cui sarà garantita e migliorata l'assistenza, la vicinanza e il supporto nelle attività e nelle decisioni. Questo almeno il quadro descritto dal dottor Giulio Carè dell'Accademia BCC che ha relazionato sul tema dell'integrazione e per quanto riguarda il cambiamento. Ascoltiamo le interviste al presidente Andamiscia che manifesta la sua stima e la sua fiducia nei dipendenti, ai neo vice direttori Cono Federico e Antonio Pandolfo, relatori del convegno, nonché a Giulio Carè. I risultati per quest'anno sono consolidati, come al solito abbiamo avuto un ottimo risultato, siamo soddisfatti, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissi. Ma adesso dobbiamo guardare al futuro, quindi dobbiamo andare un po' più in là e guardare quello che sarà l'impegno che richiederà il 2017, in quanto avendo deciso, perché è una necessità quella di crescere e di espanderci, quindi affrontando questa fusione che andremo a fare con la BCC di Bussano, noi andremo in un territorio nuovo, quindi abbiamo bisogno di integrarci, di conoscere territorio, clientela, la stessa classe di collaboratori. Abbiamo bisogno di metterci insieme per portare avanti un progetto comune, che sarà sempre un progetto di crescita, anche nell'interesse di tutti, parliamoci chiaro. Sicuramente il percorso sarà un percorso difficile, difficile come tutto ciò che è nuovo, tutto quello che si va ad affrontare per la prima volta, ma noi siamo fiduciosi, quindi io spero solo che l'anno prossimo, quando ci ritroveremo, possiamo ancora una volta parlare di obiettivi raggiunti, possiamo ancora parlare di ottimi risultati. Quest'anno condividiamo in anteprima con i nostri dipendenti dei risultati strepitosi, direi i migliori ancora della nostra storia, forse avremmo l'utile più alto e questo l'abbiamo ottenuto in un anno già il 2016 di cambiamento, il 2007 sarà ancora più caratterizzato da tante sfide a livello aziendale per la fusione che stiamo portando avanti, ma arriverà la riforma di cui abbiamo parlato, per cui oggi vogliamo sollecitarci insieme ad affrontare questi cambiamenti per avere nuovi successi poi nel prossimo anno. Mantenere questi risultati è forse più difficile che raggiungerli, in effetti negli ultimi anni abbiamo mantenuto sempre uno stand molto alto e allora la sfida oggi qual è? Affrontare tutti questi cambiamenti mantenendo ancora questa capacità di generare reddito, questa capacità di dare ancora oltre 50 milioni di crediti a questo territorio e quindi servire i nostri clienti nel migliore dei modi. Il sistema bancario, come tutti sanno, è in fibrillazione per tante vicende, lo stesso sistema del credito cooperativo è prossimo ad una riforma e a noi ci aspetta una sfida importante che è quella della prossima fusione con la BCC di Fisciano che aprirà per noi un territorio molto importante e completamente nuovo, quindi sarà un anno di sfide, il momento appunto come dicevi tu nel quale cambiano i mercati e cambia il modo di fare banca, la notizia di questi giorni, tutti gli esube, tutte le ristrutturazioni che stanno interessando grossi gruppi bancari. Ora al di là del profilo lavorativo c'è da dire che il lavoro in banca sta cambiando, cambierà progressivamente e questa sarà per noi una sfida molto importante perché se fino ad oggi il nostro modo di fare banca ha avuto successo nel territorio di competenza, lo dimostrano i numeri, dovremmo cercare anche di adeguarci a questo cambio di mentalità che interesserà il settore, conservando però la tipicità del nostro modo di fare banca, vale a dire la relazione con i clienti. Un percorso che ha in sé degli scenari che sono indubbiamente cambiati in questo periodo a partire dalle nostre abitudini, di tutti noi quando siamo clienti, questo ha comportato chiaramente uno sconvolgimento perché i clienti c'è molto più turnover, bisogna dare qualità e in questo momento il credito cooperativo sta anche cambiando per la sua riforma in atto, quindi ci sono molti percorsi da seguire, anche molte opportunità di impegno, forse anche di sacrificio nel cambiamento ma di evoluzione e di sviluppo per le persone, io mi occupo di persone nelle organizzazioni, quindi mi sto occupando nel mondo delle BCC con l'Accademia BCC di dare alle banche degli assetti più in linea con gli scenari attuali, non solo con lo scenario della riforma ma anche con scenari che vedono una necessità di rivedere le organizzazioni delle filiali, le organizzazioni della rete e anche i mestieri. Faccio l'esempio più chiaro, quello che chiamavamo il cassiere, l'operatore di cassa, diventa gradualmente un consulente alla clientela che deve dare un grande valore aggiunto, comprendere i bisogni, aiutare sempre più il cliente a trovare le sue migliori soluzioni di credito, finanziarie e quindi questo necessita anche di un impegno delle persone. Questa è una banca che sa crescere, che sa cambiare, lo ha già dimostrato e quindi accetta le sfide ed è qui per capire e per fare. Cambiamo argomento, grande successo per il convegno che si è tenuto ieri venerdì 16 dicembre presso l'Istituto Tecnico Industriale di Sala Consilina, dal titolo Vallo di Diano 2036, Immaginare il Futuro. Ieri 16 dicembre presso l'Istituto Tecnico Industriale di Sala Consilina si è tenuto il convegno dal titolo Vallo di Diano 2036, Immaginare il Futuro, organizzato dalla comunità montana Vallo di Diano. Questo evento rientra nel progetto Strategia Nazionale Area Interne che vuole stimolare i giovani nell'immaginare e prospettare il territorio in cui vivono nel futuro. Ad aprire le discussioni il dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Cicerone, la professoressa Gersomina Langella, seguita dagli interventi del presidente della comunità montana Raffaele Accetta, i referenti della Regione Campania e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e consulenti del Formez Pubblica Amministrazione, oltre che dirigenti e docenti degli istituti. In questo progetto sono stati coinvolti gli studenti delle classi quarta e quinta degli istituti superiori Cicerone di Sala Consilina, Pisacane di Padula, Leto di Teggiano, Sacco di Sant'Arsenio, nonché di Polla e di Montesano sulla Marcellana. Nel corso della giornata di ieri i ragazzi si sono riuniti per elaborare e definire idee di sviluppo relative a tre settori, ovvero trasporti, sanità e cultura. Dalle considerazioni dei giovani è emersa una situazione di disagio relativo ai trasporti, piaga che caratterizza i nostri territori da diverso tempo, ostacolando lo sviluppo economico delle nostre zone, ma anche la necessità di intervenire dal punto di vista culturale e turistico, valorizzando al massimo i numerosi borghi antichi presenti nel Vallo di Diano e creando nuove strutture che favoriscano la fruizione della cultura. Si auspica dunque un maggiore attivismo delle amministrazioni locali per realizzare questi progetti, che offrirebbero anche maggiori opportunità lavorative ai giovani, troppo spesso costretti a cercare fortune altrove. Ci spostiamo ora a Teggiano. Accolti dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Sala Consilina Gaetano Romanelli, ieri sera sono giunti nella suggestiva location dell'antica tenuta di Teggiano i candidati della lista di Massimo Miani, per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio Nazionale dell'Ordine. Le elezioni in programma per il 9 gennaio vedono due liste in campo, con Massimo Miani ieri sera a Teggiano che si contrappone all'uscente che, insieme ai candidati della sua lista, Chille Coppola per la Campania e Francesco Muraca per la Calabria, hanno esposto ai rappresentanti dell'Ordine il loro programma. Nel corso dell'incontro il Presidente Gaetano Romanelli è tornato sulla vicenda che ha visto l'Ordine di Sala Consilina a rischio soppressione, argomento che ha suscitato una grande attenzione e interesse da parte di tutti i presenti. Spesso noi siamo dipinti come evasori o consigliori fraudolenti dei contribuenti. Noi aiutiamo invece lo Stato nella riscossione delle imposte. non siamo assolutamente soggetti che commettono o sono consiglieri fraudolenti. Dunque in questa logica noi necessitiamo di una ben maggiore e diversa considerazione. Il nostro lavoro deve essere agevolato. Perché interesse dello Stato? Agevolato. Noi aiutiamo i contribuenti ad assolvere l'olio di addempimento e da tempo parliamo di necessità indifferibile e di una semplificazione. I contribuenti sono stanchi, non solo i commercialisti. Il nostro sciopero non è solo per i commercialisti ma soprattutto per i nostri clienti che rappresentano il nostro vero patrimonio. Senza i clienti questa professione non avrebbe senso, ma senza i nostri clienti l'Italia, senza le piccole imprese, non ha senso. Gli ordini meridionali ovviamente operano in un territorio particolare, è un sistema economico completamente diverso da quello del nord Italia dove il tessuto è quello delle piccole e medie imprese che poi se vogliamo comunque è il tessuto importante di tutto il territorio nazionale ma lo è ancora di più nel meridione. I colleghi del meridione svolgono una professione in modo particolare perché sono dediti principalmente alla tenuta della contabilità e quindi assistono direttamente i piccoli imprenditori, sono gli interlocutori privilegiati nei rapporti con l'agenzia delle entrate, con gli altri enti e quindi ho sempre cercato di tutelare i professionisti iscritti agli ordini del meridio di Catanzaro che poi ecco è uno spaccato, l'ordine di Catanzaro di quelli che sono tutti gli ordini delle regioni meridionali se vogliamo. Ora mi sono candidato al Consiglio nazionale perché credo nel progetto di Massimo Miani, Massimo Miani lo conosco da tanto tempo, vogliamo dare una svolta alla professione, crediamo e vogliamo che il futuro sia diverso per la professione perché bisogna in un certo senso un po' reinventarsi della professione, bisogna farsi creare le condizioni ideali che ci sia una specializzazione che porterà sicuramente ad una qualifica diversa di quello che è il ruolo che svolgiamo oggi. Le nostre attività nell'ambito di quello che è il nostro progetto che abbiamo presentato nel programma elettorale prevedono innanzitutto un momento di grande vicinanza nei confronti dei colleghi commercialisti che in questo momento stanno soffrendo in modo particolare gli effetti della crisi economica che ha colpito il Paese, ha colpito ovviamente in maniera più profonda alcune zone del Paese come qui a Sud Italia e che hanno portato difficoltà negli studi professionali e soprattutto i più piccoli che hanno difficoltà di incasso, difficoltà che deriva da diminuzione del lavoro e questo ovviamente crea per noi un'attenzione particolare perché vogliamo dimostrare vicinanza e supporto per un lavoro più semplice rispetto a quello che si sta svolgendo oggi nel campo degli adempiamenti fiscali. La soluzione dei problemi di questa crisi della professione non si risolve solamente con questo ma si risolve con un progetto che deve guardare al futuro, deve guardare a quelle che possono essere le opportunità di questa meravigliosa professione. Ed intanto, nonostante le vicende che vedevano a rischio l'ordine dei dottori commercialisti di Sala Consilina, lo stesso ordine si è attivato per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi per i propri iscritti e lo ha fatto grazie anche al contributo che è arrivato da Teggiano. Ieri sera, presente alla cena con i candidati al Consiglio Nazionale, anche Cono Morello, dottore commercialista ma anche consigliere comunale di Teggiano, che ha portato l'ordine nella città medievale mettendo a disposizione una seconda sede presso il complesso monumentale della Santissima Pietà, che sarà destinata prevalentemente ad ospitare corsi di formazione e aggiornamento per i dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all'ordine di Sala Consilina. Per Cono Morello l'iniziativa sarà anche in grado di favorire la promozione turistica dell'area. A Teggiano verranno svolti i convegni e gli eventi di alta formazione. Non a caso stasera abbiamo in rappresentanza il candidato al Consiglio Nazionale e abbiamo intenzione di organizzare degli eventi dei master di primo e secondo livello per elevare anche Teggiano a un livello di formazione alto. Il Comune di Teggiano ha designato come sede di rappresentanza dell'ordine il complesso monumentale della Pietà. Nel complesso monumentale della Pietà, oltre alla sala conferenza che sarà pronta entro il 31 dicembre, abbiamo designato anche dei locali da destinare all'ordine. Quindi sia rappresentanza ma avremo anche una presenza fisica dell'ordine qua a Teggiano. Abbiamo intenzione insieme all'ordine di Sala Consilina, insieme alla fondazione e insieme al Consiglio Nazionale di organizzare degli eventi di alta formazione, ad esempio il passaggio generazionale dell'impresa, abbiamo un percorso formativo per il processo tributario, organizzare degli eventi e concentrarli nel fine settimana, fare in modo che i partecipanti al convegno possano restare a Teggiano nel fine settimana e quindi creare attrazione, turismo e muovere un po' l'economia. Restiamo a Teggiano. È stata presentata ieri presso il centro Pier Giorgio Farassate l'interessante iniziativa promossa dal Consorzio Grest che vuole sensibilizzare non solo Teggiano ma l'intero vallo di Diano verso il consumo di prodotti locali. L'iniziativa coinvolge circa 18 aziende tegianesi che si sono riunite offrendo i loro prodotti da distribuire in pacchidono per Natale. Anziché quindi acquistare le classiche estrenne di Natale, composte prevalentemente da produzioni industriali, il Consorzio Grest ha deciso di mettere insieme numerosi produttori di Teggiano riuscendo così a creare dei pacchidono di grande qualità gastronomica composti da prodotti artigianali e della tradizione agroalimentare del territorio. Ieri sera la presentazione ufficiale dei prodotti e delle due varietà di pacchidono alla presenza, oltre che dei rappresentanti del Consorzio Grest, anche dell'amministrazione comunale di Teggiano e della banca Montepruno, con il vice direttore area mercato Antonio Pandolfo che ha elogiato l'iniziativa ritenendola idonea per stimolare la consapevolezza del valore del territorio. Una piccola iniziativa però importante, poi peraltro si parte sempre dalle piccole cose di valorizzazione dei prodotti del territorio realizzata sul comune di Teggiano, la stessa confezione è prodotta da un'azienda tegianese e contiene una serie di prodotti di nicchia, prodotti di qualità realizzati prodotti tutti da aziende tegianesi. Parliamo sempre tanto di valorizzazione del territorio, questa è una misura concreta per valorizzare il territorio e realizzare qualcosa che possa fare da vetrina ulteriore ai prodotti che qui vengono realizzati. L'iniziativa oltre a tentare di valorizzare il territorio rappresenta un momento di aggregazione per noi imprenditori e noi effettivamente l'abbiamo presa con entusiasmo e speriamo che anche il pubblico la prenda allo stesso modo, con lo stesso entusiasmo e quindi partecipi a questo progetto di valorizzazione e promozione territoriale regalando a Natale Teggiano. Sono quelle iniziative che fanno solo bene al paese, tra l'altro bisogna partire da un semplice ragionamento, quello di poter consumare i nostri prodotti non solo al fine di valorizzare le nostre artigianalità o magari i nostri piccoli imprenditori agricoli, quello che uno magari mette a sua disposizione, ma anche dare un senso di grande attenzione. Dovrebbe dare un messaggio di unione innanzitutto sia a livello di imprenditori che di concittadini, nonché di territorio perché insieme all'unione può nascere un futuro migliore. Lo spirito del Consorzio pensato insieme con l'ingegnere Chirico è proprio quello di pensare un futuro migliore, un futuro diverso, ma dobbiamo saperlo pensare per poi realizzarlo. Ringrazio innanzitutto gli organizzatori di questo evento perché hanno fatto sì che sia valorizzino il prodotto tipico locale, sia che danno voce a delle imprese locali. Per sviluppare il territorio l'unica risorsa è l'agricoltura. Per politiche sbagliate da anni è finita così e per farla sviluppare bisogna credere in questi piccoli progetti proprio perché bisogna crederci in questi progetti se vogliamo sviluppare la zona, se no i giovani sono destinati ad andare via. Innanzitutto voglio ringraziare il Consorzio che ha messo in piedi una bella iniziativa, quello di dare dignità e visibilità ad un territorio ma soprattutto a chi ancora oggi produce i prodotti tipici locali. Beh, questo è un momento importante. L'amministrazione comunale è attenta su queste cose perché diciamoci la verità il futuro è verso l'agricoltura e il turismo. Penso che i nostri territori hanno le carte in regola per potersi candidare in questa direzione. Spero che i prossimi PSR che all'anno nuovo usciranno li utilizziamo fatti un utilizzo per bene e magari può nascere una nuova stagione. Certo sì che dobbiamo essere pronti sia con la progettazione sia con le idee chiare e anche con i propri cittadini ma non solo Teggiano, penso tutto il Valle di Diano. Attraverso di lui e quella che è stata proprio poi la voglia anche della Banca Montepruna, Montepruno, Valentino Di Brizzi ha pensato che era giusto praticamente che questa iniziativa passasse anche attraverso il Valle di Diano. Cioè questo sta a significare che è piaciuta non solo al Consorzio ma soprattutto c'è un concetto fondamentale. Noi abbiamo un patrimonio nel Valle di Diano che è stupendo. Abbiamo una naturalità che è meravigliosa. Abbiamo dei prodotti tipici che sono sconosciuti a tutti però noi l'abbiamo immaginato con un percorso di tipo diverso. Venire nel Valle di Diano è come andare alle terme. Alle terme si va per respirare l'aria. Nel Valle di Diano si viene perché vogliamo assaggiare i prodotti tipici locali che sono salutari. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitare. Restate con noi a tra poco. Ben trovati alla seconda parte del Tg di Uno TV. È stato inaugurato questa mattina a Padula il presidio dell'Associazione Libera del Valle di Diano. Alle 9.30 si è tenuta la sottoscrizione del patto presso l'aula consigliare in piazza Umberto I alla presenza delle istituzioni locali e dei referenti nazionali dell'Associazione. Vediamo. Intitolato alla memoria di Natale De Grazia è nato questa mattina il presidio dell'Associazione Libera nel Valle di Diano che è l'ottavo sul territorio della provincia di Salerno e costituisce un avamposto importante nell'area sud del territorio provinciale e regionale. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta a Padula, la città simbolo nella lotta alla cultura mafiosa qua sul nostro territorio. L'intitolazione al capitano di fregata Natale De Grazia, deceduto misteriosamente nel 95 mentre indagava sullo sbattimento illecito di rifiuti tossici, tradisce temi di particolare attenzione del presidio. Vale a dire l'ambiente e le eco-mafie che, insieme a quelli tradizionali dei diritti, dei beni confiscati, della lotta delle vittime innocenti, saranno argomenti di interesse degli attivisti del presidio inaugurato oggi. Questa mattina, alle ore 9.30, è stato sottoscritto il patto di presidio presso l'aula consigliare di Padula, in piazza Umberto I, alla presenza del sindaco Paolo Imparato, della referente provinciale di Libera Salerno, Anna Garofalo, della vicepresidente nazionale di Libera, Daniele Marcone e del neo-referente del Valle di Diano, Giuseppe Abruzzese. Sì, finalmente dopo quattro anni siamo riusciti, dopo questa lunga fase di gestazione, siamo riusciti a pervenire all'inaugurazione. Padula ha un valore importante, ha un valore simbolico, non solo per il posto, ma anche per la presenza del Museo Multimediale di Gio Petrosino. La nostra mission è lunghissima, abbiamo un sacco di obiettivi. Penso, nell'immediato, quello di realizzare a breve i campi di estate liberi, oppure di aprire uno sportello anti-usura qui nel Vallo di Diano, uno sportello di ascolto. Ma diciamo che tutte le azioni che porremo in essere sono finalizzate e sono mirate a quella che è l'attività generale di Libera, quella di essere sentinelle e presidio della legalità sul territorio. Sul numero dei presidi della provincia vi potrà dire meglio la referente provinciale Anna Garofalo. Io mi occupo di memoria, del settore memoria, quindi sono venuta qui a fare da matrina questa intitolazione importante. L'intitolazione a una vittima innocente delle mafie avviene dopo un percorso di riflessione e può riguardare il territorio, ma anche una vittima scelta perché magari si sente di voler seguire una storia, ad esempio, completamente dimenticata. E questo presidio, questo gruppo di persone, che quindi costituiscono un avamposto di antimafia sociale, dove per antimafia sociale intendiamo questa espressione nella sua accezione più ricca di significato, arriva ad una intitolazione a Natale de Grazia. Una persona di cui si parla poco e che la cui morte ci permette di... dolorosissima per la famiglia e riscoprire questa storia ci permette di affacciarci alla realtà terribile, pericolosa delle eco-mafie, delle navi a perdere, perché appunto Natale de Grazia, prima della sua morte, stava indagando su una di queste navi e anche su altre. Quindi sono contenta di essere qui per ricordare questa storia. Ho fatto questo viaggio, io sono pugliese ma vengo da Roma molto volentieri, perché questa è una terra bellissima, forte anche dalla memoria di Gio Petrosino, a cui sono intitolate tante cose dove c'è il museo. Quindi in realtà è un territorio che ha deciso di fare della memoria un punto di forza. Anche le grotte di Pertosa Oletta entrano nel novero delle grotte italiane cardioprotette, grazie al progetto di cardioprotezione del sistema Mida. Da oggi le grotte di Pertosa Oletta sono cardioprotette, grazie al defibrillatore semiautomatico donato dall'Associazione Onlus Carmine Speranza. In questa giornata infatti, a partire dalle 14.30, si terrà il corso di primo soccorso BLS presso l'auditorium del Museo Mida 1 per il modulo teorico e presso il Museo Mida 2 per il modulo pratico. La partecipazione è aperta a chiunque sia interessato al costo di 30 euro ed è finalizzato a diffondere le tecniche di primo soccorso da operare nei confronti di chi venga colpito da arresto cardiaco, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, agendo con manovre che sostituiscono le funzioni vitali importanti. Parliamo di un appuntamento organizzato dalla Fondazione Mida, dalle associazioni Onlus Carmine Speranza, dall'Associazione Mediterraneo Il Mare che Unisce e dall'Associazione Deca Sport per Tutti. Al termine del corso, previsto nel tardo pomeriggio, dopo il rilascio degli attestati di partecipazione, l'importante consegna del defibrillatore automatico alle grotte di Pertoso Auletta da parte dell'Associazione Onlus Carmine Speranza. L'incontro con l'Associazione Carmine Speranza, spiega il presidente Mida Francesco Antonio Doriria, è stato fondamentale per avviare un progetto di cardioprotezione dell'intero sistema Mida. Oggi iniziamo dalle grotte che accolgono migliaia di visitatori tutto l'anno. Si svolgerà infine una riunione dell'Associazione Mediterraneo Il Mare che Unisce, aperta a nuove adesioni. Ora ci spostiamo a Montesano sulla Marcellana che oggi e domani ospita la terza edizione dei Mercatini di Natale. Grazie all'impegno della Proloquio e alla collaborazione del Comune e della BCC di Buonabitacolo. La Proloquio di Montesano Terme, con il patrocino del Comune di Montesano sulla Marcellana e della BCC di Buonabitacolo, ha organizzato per oggi e domani la terza edizione dei Mercatini di Natale. La suggestiva location offerta dal Borgo Antico accoglierà gli stand che proporranno tante idee regalo, ma soprattutto i prodotti tipici dell'artigianato e gastronomia locali. Si inizia oggi pomeriggio a partire dalle ore 16.30 quando i Mercatini apriranno al pubblico. L'iniziativa, sostenuta dal Sindaco Giuseppe Rinaldi e dal Direttore Generale della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca, è finalizzata alla promozione delle tipicità del posto, ma anche a regalare momenti di serenità alla comunità e di divertimento per i più piccoli, coinvolgendoli nel ricco programma di questi due giorni. A Palazzo Gerbasio, infatti, saranno allestiti appositi spazi dedicati ai bambini che potranno dare sfogo alla loro creatività scrivendo letterini a Babbo Natale e preparando palline per l'albero. Inoltre avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale nella sua casa e farsi fotografare con lui. A Palazzo Gerbasio si terrà anche l'evento Dolcinote del Natale, due serate di canti natalizi grazie alle esibizioni, a partire dalle ore 17.30, dell'Istituto Omnicomprensivo di Montesano sulla Marcellana, dell'Oratorio di Montesano Capoluogo, l'Orchestra Giovanile di Fiatini, Montesano sulla Marcellana, Mille Cherubini in Coro di Tardiano e Canta Cilento e Diano Tour. Ora apriamo la pagina sportiva con il calcio. Chiuso ieri sera il mercato e con diversi addi clamorosi, il Valdiano domani pomeriggio giocherà in casa del Sant'Omaso. Una vittoria esterna e fondamentale per continuare il cammino in campionato. Ultima gara dell'anno per il Valdiano, che domani pomeriggio sarà sul campo del Sant'Omaso per un match di fondamentale importanza in chiave salvezza. La formazione di mister Criscuolo cerca i tre punti che darebbero una spinta vitale importante e chiuderebbero, nel migliore dei modi, un anno molto travagliato. Dopo la vittoria contro la rinascita Vico dello scorso fine settimana, è questo in Terra Irpina un altro scontro diretto da non fallire. Per la sfida al Sant'Omaso ci sarà anche l'ultimo arrivato in Clasa Blaugrana, il centrocampista Limatola proveniente dalla polisportiva Santa Maria. Le ultime ore di mercato hanno inoltre segnalato altri addi illustri in casa valdianese. L'estroso centrocampista ospensivo Giuseppe Spinelli è passato al Moliterno, il capitano Antonio Giordano è stato ceduto al Sassano in prima categoria, mentre sono stati svincolati il difensore Pasquale D'Arienzo e il giovane Coccaro. Quello di dicembre è stato un mercato rivoluzionario in casa valdiano. La società si è affidata completamente nelle mani del tecnico Vincenzo Criscuolo che di fatti ha nel giro di tre settimane epurato tutti i senatori della squadra e smantellato parte del gruppo storico presente. A tenere alta la bandiera del territorio è il solo Antonio Farano, centrocampista di Paola classe 94, al quale è stato affidato il grado di capitano. Vista la rivoluzione, la salvezza è d'obbligo per il valdiano. Un eventuale fallimento sarebbe innanzitutto la sconfitta della società che ha rinunciato alla sua mission di squadra del territorio a favore della logica del risultato e, in un secondo momento, del tecnico. Ovviamente quattro mesi e ad aprile si tireranno le somme. Intanto domani il match salvezza contro il Sant'Ommaso. Con questo servizio si conclude quest'edizione del TG di Uno TV. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata.